Lei insegna progettazione sostenibile del territorio, quindi significa che progettare in modo sostenibile è possibile? È possibile, è complesso, vuol dire tenere insieme almeno tre dimensioni, la dimensione economica, quella sociale e quella ambientale. Dimensioni che non sempre sono così coerenti tra loro, anzi a volte sono conflittuali, bisogna capire come riuscire a tenerle assieme. Ciò detto è possibile, a partire dalla lettura dei casi specifici che il territorio ci offre, ogni zona è differente dalle altre, bisogna capire quali sono i punti di forza e i punti di debolezza, le opportunità locali che si possono sviluppare e adottare un approccio più interdisciplinare possibile che tenga insieme costi e benefici delle variazioni e sappia massimizzare la compatibilità tra queste tre dimensioni.